Signor Presidente del Consiglio, la gestione dei flussi migratori, come lei ha sottolineato, sarà uno dei temi centrali del Consiglio europeo e lei da qui ha preso le mosse nel suo discorso. Prima di ogni altra considerazione vorrei ricordare a lei e a tutti noi che stiamo parlando di uomini e di donne che fuggono dalla guerra, dalla povertà, dalla miseria, dalla fame, si stipano su scafi insicuri in condizioni disumane, mettendo a rischio la propria vita nella speranza di ritrovare altrove quella dignità che non hanno nel proprio Paese. Per questo rivolgo al suo Governo e in particolare al Ministro Salvini un appello. Parliamo di quella paivore agente con rispetto. Non usiamola come un ostaggio per inutili esibizioni di muscoli. Ricordiamo quale carico di sofferenza ognuna di quelle persone porta con sé. Ricordiamo che la storia dell'umanità è storia di migrazioni. Ricordiamo che vivono oggi nel mondo 60 milioni di discendenti di italiani che sono emigrati da questo nostro Paese. E quanto dura fu la loro vita e la vita dei loro padri. Dico questo non per un istinto buonista o compassionevole, ma per essere tutti noi sempre consapevoli della necessità di trattare questo tema con rispetto, serietà e umanità. Detto questo non vi è dubbio che i flussi migratori che negli ultimi anni hanno investito l'Europa richiedono una strategia adeguata che muova da un presupposto ineludibile. Chi sbarca in Italia in realtà non vuole entrare nel nostro Paese soltanto, ma vuole entrare in Europa. E dunque questi flussi non possono essere scaricati solo sui Paesi di primo approdo. in linea di principio l'Unione Europea questo lo riconosce, ma poi sappiamo che in realtà molti Paesi si rifiutano di accettare la redistribuzione dei richiedenti asilo. E dunque è del tutto giusto che l'Italia chieda un cambio di passo. Come lo hanno chiesto prima di lei i governi guidati da Renzi e da Gentiloni, perché gli obiettivi che lei ha indicato, una gestione comune delle frontiere esterne, il superamento del regolamento di Dublino, gli accordi bilaterali tra l'Unione Europea e i Paesi africani, un diritto di asilo europeo omogeneo, l'attivazione dei corridoi umanitari, il sostegno a programmi nazionali di affidi familiari per i minori non accompagnati, aggiungo io, tutto questo sono obiettivi che erano stati posti e sono stati posti ripetutamente dai governi che lo hanno preceduto. E non basta dire prendetevi un po' di migranti perché noi ne abbiamo troppi, perché questo non è una proposta che fin qui è stata raccolta. Bisogna essere assertore di una vera strategia europea e se si chiede un cambio di passo a Bruxelles, allora il cambio di passo deve farlo anche l'Italia. Per esempio, uscendo dalla mitologia sovranista che ogni giorno demonizza l'Europa, salvo poi pretendere che l'Europa faccia quello che noi non vogliamo o non siamo capaci di fare. E allora io le chiedo se il punto è ottenere gli obiettivi che lei ha indicato e su questi obiettivi credo che tutto il Parlamento congenga. Le credo, ma lei crede davvero che la strada giusta sia prendere in ostaggio 500 migranti usandoli come una sorta di scudi umani? Lei crede davvero che il modo di far valere le nostre ragioni sia un continuo litigio con tutti i nostri interlocutori? Lei crede davvero che sia la strada giusta quella di rappresentare le organizzazioni non governative come complici degli scafisti quando sottraggono dalla morte in mare i migranti? Le dico di più. Lei è il Ministro Salvini. Credete davvero che i nostri alleati debbano essere la Baviera, l'Austria, i paesi di Visegrad, i cui governi non solo non accettano nessuna redistribuzione, ma chiedono un'applicazione del regolamento di Dublino più dura e più aspra quando noi ne chiediamo il superamento. Allora, è su questo che noi vi chiediamo coerenza. Liberandovi appunto dall'idea che l'Europa sia un nemico, l'Europa sia un ostacolo, l'Europa sia un peso, quando invece è soltanto in una chiave europea e con una strategia europea che quegli obiettivi che le indica possano essere raggiunti. Guardi, nessuno ignora, lo dico anche questo al Ministro Salvini che si occupa di queste cose in prima persona, nessuno ignora le ansie e le paure che sempre i fenomeni migratori suscitano. Non c'è da stupirsene, perché quando nella tua comunità vedi arrivare persone che parlano un'altra lingua, pregano un altro Dio, mangiano altri cibi, hanno consuetudine e modi di vita diversi, il primo istinto non è mai l'accoglienza, il primo istinto è sempre la diffidenza e il timore. Sono di Torino e le potrei raccontare quali pregiudizi, quali diffidenze, quali conflitti accompagnarono l'immigrazione al nord di tanti connazionali del sud. Ma proprio per questo non serve alimentare paure, soffiare sul fuoco dei pregiudizi, proporre discriminazioni, come per esempio dire che si sostengono i comuni nella spesa per gli asili nido e le scuole materne soltanto per i bambini italiani. Serve operare per l'inclusione, per il reciproco riconoscimento, per la convivenza, perché così si costruisce una società senza conflitti. Questo non significa, e vado verso le conclusioni, che l'accoglienza possa essere illimitata. È evidente che i flussi debbano essere contenuti e il Ministro Minniti lo ha fatto come le cifre dimostrano, ma per ridurre i flussi non basta contenerli. Le dinamiche demografiche che abbiamo di fronte del continente nero sono impietose. Oggi vivono in quel continente 1 miliardo e 250 milioni di persone, saranno 2 miliardi e mezzo nel 2050, cioè domani mattina, saranno 4 miliardi alla fine del secolo, quando la Nigeria, con 600 milioni di abitanti, sarà il terzo paese più popoloso di questo continente. Nessuno può pensare che il destino di quella immensa moltitudine di persone può essere affidata alle migrazioni. Allora anche qui serve un cambio di passo. Se non vogliamo che vengano tutti qui, bisogna farli vivere meglio lì, certo, ma questo non si risolve con qualche atto simbolico di solidarietà. Richiede uno sforzo straordinario, enorme, ingente e vedremo la vostra coerenza quando presenterete qui la legge di bilancio negli stanziamenti per i Paesi in via di sviluppo e gli aiuti alla cooperazione. Richiede uno sforzo straordinario per sostenere investimenti, per garantire la realizzazione delle infrastrutture necessarie, per dare servizi fondamentali educativi e sanitari a quella popolazione, per costruire istituzioni che reggano in Paesi che hanno una storia politica e sociale drammaticamente tormentata, una sfida insomma a cui l'Europa non può sottrarsi. Ecco noi, signor Presidente, le vorremmo sentire dire queste parole, mettendo fine alla caricatura che ogni giorno dipinge l'Europa come un peso, un ostacolo, un nemico. Guardi, e lo dico anche a Salvini, è una pericolosa illusione credere che ci si difende meglio se ci si chiude, se si erigono muri, si chiudono porti, si alzano barriere, si impongono dazi. Viviamo in un mondo grande e in un mondo grande se ti fai più piccolo sei solo più piccolo e sei solo più vulnerabile e sei solo più debole. Noi vogliamo vedere un'Italia che sia forte, un'Italia che sappia difendere, certo, i suoi interessi, ma gli interessi si difendono facendoli valere là dove si prendono le decisioni e le decisioni si prendono sempre di più nelle sedi multilaterali, si prendono sempre più in Europa. Guardiamo appunto come altri Paesi riescono a fermare i loro interessi, ma lo fanno non negando o contestando ogni giorno l'Europa, la sua esistenza e la sua necessità, ma partendo dal riconoscimento della necessità di quella dimensione, lì fanno valere i loro interessi e contribuiscono alle decisioni che li tutelano. Ecco, noi vorremmo un'Italia così, un'Italia più forte che lo sarà in quanto sappia che il suo destino è in Europa. Grazie. A chiesto di intervenire il deputato Giglio Vignani a facoltà.